Abbiamo detto maltempo ovunque, Italia sotto la pioggia, esondazioni e strade come fiumi, Bologna sott'acco, morto e 3.000 sfollati, Catania strade come fiumi per la pioggia. Vi abbiamo raccontato in queste settimane, in realtà era un'Italia in due, con piogge molto forti al nord, Fleddo, e poi invece al sud il sole che splende, però in questo fine settimana invece il maltempo ha devastato tutta l'Italia, dalla Liguria a Piemonte, il Miglia a Romagna, fino ad arrivare giù in Sicilia. Oggi c'è il sole fortunatamente in molte regioni, ma martedì è attesa una nuova perturbazione. Allora andiamo subito a Catania, andiamo da Cristina Conforti. Buongiorno, qual è la situazione oggi Cristina? Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutto il nostro pubblico. La situazione sta lentamente ritornando alla normalità, questa è proprio la via etnea, quella che avete visto nei video impressionanti che hanno girato sul web, e che è diventata praticamente un fiume, con l'onda di piena proveniente dai paesi etnei. L'acqua, vedete anche sul muro, è arrivata praticamente quasi ad un metro di altezza, persone imprigionate in qualche modo nei negozi. Questa è un'arteria di shopping, una delle principali arterie, tavolini trascinati, sedie e addirittura il motociclista, nel video che avete mostrato, impressionante, che ha rischiato di morire affogato proprio a causa dell'onda di piena, che da qui arriva appunto, dicevo, dai paesi dell'Etna, senza trovare un argine, senza essere drenata come dovrebbe. E dunque anche sottopassi allagati, nella zona di Mister Bianco, a Pescheria, sono stati, diciamo, ribaltati i tavoli del pesce, sono stati ribaltati auto, sono stati soccorsi, uomini intrappolati nelle macchine. Le ferrovie e le strade interrotte per più di 24 ore, da sabato in poi, adesso stanno lentamente riprendendo le attività, anche le scuole hanno riaperto, ma per questa sera non si prevede un compaggioramento delle condizioni meteo. Allora, torno da te tra pochissimo. Adesso invece, prima stavamo parlando della città di Bologna, l'abbiamo letto sul giornale, via allagati, i paesi vicini invasi dall'acqua, i fiumi che veramente fanno letteralmente paura, ancora tanto fango. Abbiamo detto purtroppo a Pianoro, nel Bolognese, c'è stato anche un morto. A Piacenza l'acqua ha invaso l'autostrada, guardate queste immagini, i cassonetti, macchine, motorini. E allora, andiamo in collegamento da Maria Elena Fabi, che si trova proprio a Bologna. Maria Elena, qual è la situazione? Vediamo dietro di te le ruspe che stanno lavorando. Sì, in effetti Bologna è ancora sommersa, una parte di Bologna, nel fango. Come potete vedere, io sono proprio immersa nel fango. E sabato sera Bologna ha vissuto delle ore, una nottata da incubo, con strade che si sono trasformate in fiumi di fango e di acqua. E la situazione era veramente molto, molto drammatica. Più tardi noi vi racconteremo il motivo per cui c'è stato questi gravi danni, che hanno poi costretto anche il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, a chiedere lo stato di emergenza. Uno stato di emergenza che è stato chiesto proprio per rendere possibile, necessario di nuovo, che questa città possa rinascere. Purtroppo i danni sono ingenti e ancora il bilancio è in fase di assestamento. Vi racconteremo anche il motivo per cui c'è stata l'esondazione del Ravone. L'acqua, sono caduti 170 mm di acqua, l'acqua che solitamente cade in due o tre mesi. E l'acqua così forte ha fatto scoppiare i cassoni del Ravone, che è esondato. E vi racconteremo tra un po' quello che è successo. Allora, adesso torniamo a Catania. In Sicilia, tra l'altro, molte zone della Sicilia, perché a Catalinsetta si è allagato un ospedale, a Stromboli ci sono state frane. Però ritorniamo da Cristina. Cristina, sei in compagnia di un ospite. Qual è ancora, perché sono veramente tante le testimonianze, testimonianze poi di persone che hanno avuto anche estremamente paura, calcolando che si proveniva da una settimana di sole. Sì, qui praticamente era quasi estate. Siamo con Valentina, titolare di un bar storico, qui della Vietnea, quella che si è trasformata in un fiume, come avete visto nelle immagini. Valentina, che momenti sono stati? Salve a tutti. Sono stati dei momenti tragici, perché l'acqua arriva come un fiume in piena e non abbiamo la tempestività di ritirare il tutto o di reagire, di mettervi in sicurezza. Perché mi hai detto che in pochi secondi si è alzato il livello. L'acqua è arrivata proprio dai paesi etnei. I tombini ovviamente sono otturati anche a causa della terra dell'Etna e i condotti magari non sono stati fatti bene e quindi qui si forma come se fosse un mare. I tavolini tuoi, le sedie, che fine hanno fatto? Le sedie, le ho trovati al Duomo. Venta al Duomo. Alcuni sono stati persi, alcuni danneggiati, ma qui un po' tutti, le attrezzature, tutto, tutto perso. Anche i tuoi colleghi commercianti hanno perso materiali, celle frigorifere, mi dicevi, distrutte. Sì, tutto distrutto. È una situazione che poi si ripete, avete già vissuto in qualche modo l'anno scorso. Ogni anno si ripete, si ripete e stanno andando sempre più a peggiorare. Quindi siete un po' preoccupati. E poi qui ricordiamo che appunto c'è stato il salvataggio dell'uomo che appunto era sullo scooter, che è stato trascinato via, Massimiliano. E sì, dopo infatti ne parleremo e avremo proprio la signora. questo atto generoso e soprattutto di grande coraggio. Torniamo adesso invece da Maria Elena Fabi, torniamo a Bologna. Maria Elena. Eccoci. Allora, vi dicevo che cosa è successo. In questa zona, noi siamo in via Andrea Costa, il ravone, la forte pressione dell'acqua ha fatto scoppiare i cassoni del ravone. E quindi il ravone, questo torrente interrato, un torrente che scorre sotto la città per 15 chilometri. Allora, siamo in compagnia di Angelo. Angelo, le ore che hai vissuto sabato sera sono qualcosa di tremendo. Sabato sera per me è ripetibile, speriamo che sia ripetibile, perché eravamo, c'è un panificio qua più avanti, che per fortuna è rimasto illeso, perché poco prima è arrivata l'onda. Tu hai perso la macchina. Io ho perso la macchina, c'ho il parcheggio qua di fronte, in questa via qua, e siamo arrivati, che qua c'era ancora poco, siamo arrivati là e il parcheggio era completamente sommerso, perché il fiume era già scoppiato qua vicino. E tu hai salvato la vita ad un tuo collega, ad un tuo amico? No, io sono, sì, diciamo, sono venuto qua, che ho pensato subito al mio collega, al fornaio qua di fronte, e l'ho trovato lì fuori e poi mi diceva, ma io devo andare dentro. E il poliziotto chiedeva, no, no, te devi star fuori. Lui stavo morendo... No, lui mi ha detto che ha rischiato, che era dentro, che era attaccato a un frigo, che voleva salvare, doveva salvare. Aveva il fiume dentro, una roba impressionante, il fiume dentro. Usciva dal portone, il fiume dall'interrato. Gli è scoppiato il pavimento, le macchine tutte per aria, il frigo, tutto. Tutto, un anno, neanche un anno c'è questa azienda. Tu mi hai detto che non hai avuto vergogna di piangere. No. Hai pianto fino... No, io ho pianto per la macchina, ho pianto per tutto. Di spiacere, perché potevo essere io. Sono lì, potevo essere io. Non vi aspettavate tutta quest'acqua? In effetti c'era stata. No, ma neanche nell'immaginario. Perché era successo l'anno scorso, lì giù nella via poco più avanti, ma comunque aveva allagato un po' la strada e basta, cioè non era stato... Questo è stato un disastro, è cominciato dalla montagna fino a qua, ha distrutto tutto, è scoppiato tutte le cantine, delle botte, delle bombe, lì è scoppiato l'asfalto, si è sentito, sembrava un geyser di gas. Bruttissimo, una scena orribile, orribile. Tu hai avuto paura di perdere anche... Hai avuto paura di perdere tutto, no? La vita perché poi stavo un po' in sicurezza, perché qua era un fiume, era un macello, c'era 30-40 centimetri d'acqua con una pressione assurda, era un fiume in piena. Un fiume in piena. Maria, grazie per la testimonianza, veramente ci uniamo a tutti quanti voi, a tutti quanti loro. Le allunioni di questi mesi hanno veramente messo a dura prova gli abitanti dell'Emilia Romagna, gente veramente abituata a rimboccarsi le maniche, a tirarsi fuori dal fango, però arriva un momento, come abbiamo ascoltato, che veramente a volte non ce la fai neanche più, hai paura anche per i tuoi figli. Federica D'Amore, abita vicino a Faenza, in provincia di Ravenna, con due figli e marito, abitava lì, poi ha deciso di trasferirsi, ancora una volta si ritrova nella stessa situazione. Come avete vissuto la notte passata? Grazie intanto per la testimonianza. Sì, salve, buongiorno. È stata una nottata in bianco, perché il fiume che a noi è venuto per tre volte in casa ha rischiato di venire nuovamente. Quindi diventa una situazione veramente assurda. Ti senti con i vicini che sono rimasti per sapere se loro stanno bene e speri di non dover sparare altro fango. Federica, ma che cosa ha deciso insieme al suo marito? Di tornare a vivere lì o di trasferirsi? Allora, quella è la casa dei miei sogni, la casa che ci siamo ristrutturata, dove è nata mia figlia, quindi... Ma non è fattibile, non è possibile, anche perché non puoi vivere nell'angoscia o con le valigie in mano ogni volta che piove. E quindi i lavori non ne sono stati fatti. Noi quest'ultima alluvione, quella del 18 settembre, per noi era impensabile. Noi eravamo rientrati da sette... no, noi eravamo rientrati a dicembre a casa, dopo sette mesi che eravamo fuori. E adesso dobbiamo riprendere, rifare tutti i lavori con soldi che non abbiamo al momento. Con una sicurezza che nessuno ci dà, perché io non so che se fra un anno risuccede di nuovo. Quindi al momento è impensabile. I suoi figli hanno paura, Federica? Sì, i miei figli adesso ne ho uno abbastanza grande, quindi la riesce a vivere un po' meglio. Ma la piccolina, sì, la vedo che è accusato questa volta. Adesso noi ci siamo cercati autonomamente un appartamento in affitto. è un quinto piano dall'altra parte di Faenza. La prima cosa che ha fatto è affacciarsi al balcone e dire mamma, qui anche se arriva l'alluvione non ci prende. Quindi sì, siamo entrati un attimo... Ci sono situazioni simili? Ogni volta che piori. Ci sono comunque situazioni simili alla sua? A gente che vuole abbandonare il proprio paese? Lei conti che ho dei vicini di casa, ma che comunque non sono giovanissimi, che hanno solamente il piano terra e che per tre volte hanno dovuto riniziare. Loro non ne hanno più voglia. Gli stessi figli gli dicono di andare via. Non è fattibile. Ripeto, poi di lavori non se ne vedono. Nessuno ha parlato di fare niente. Quindi noi ci aspettiamo nuovamente un'altra alluvione adesso. Quindi è inutile investirci due soldi per delle case che poi fra un po' saranno di nuovo alluvionate. Farai tanti sacrifici. Noi abbiamo ancora nove anni di mutuo, però... si si rimbocca nuovamente le maniche e si va avanti. Federica, d'amore. Veramente ci vuole tanto amore, tanta pazienza, anche tanto coraggio. Noi vi staremo vicini. Continueremo a seguire anche la vostra storia e non spegneremo i riflettori, soprattutto per quello che stava dicendo anche, sui lavori che devono essere fatti. Grazie, grazie Federica, grazie Maria Elena Fabi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie Cristina.